Oh ragazzi! Avvicinatevi please! Occhi puntati qua! Vai, 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 vai! Vai Golo, vai! Fai la colazione completa! Vai, vai, vai! Oh! Questa è la risposta! Si! Questa è la risposta! Oh! Yeah! Oh! Vai, vai! Oh! Paura! Vai, si va! Vai, si va! Oh! 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 Yeah! Si, si, si! Oh! 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 Cattino per questi b-boy Ok Break and breakfast E t-sader Vediamo un po' i nostri giudici Se sono arrivati al verdetto Allora 3, 2, 1 Ok Un applauso a breakfast